Ciao a tutti, sono Giuliana, tutor di WOW. In questa lezione di chimica vi parlerò delle reazioni acido-base. Andremo a vedere le definizioni di acido e base, come si misura il loro pH, la loro forza e faremo qualche esercizio per fissare i concetti. Partiamo! Cominciamo dicendo che acido e basi sono sostanze chimiche che troviamo abitualmente nella nostra vita quotidiana, quali ad esempio l'acido acetico contenuto nell'aceto o sostanze basiche come il bicarbonato di sodio o l'ammoniaca. In generale possiamo dire che acido e basi sono specie che insaurano equilibri in soluzione acquosa e reagiscono fra di loro, andandosi a neutralizzare, a dare acqua e il sale corrispondente. Ad esempio qua sotto vediamo una reazione tra acido acetico e bicarbonato di sodio, che dà acetato di sodio, che è appunto un sale, e acqua. Andiamo quindi a vedere quali sono le definizioni più puntuali di acido e base dati da diverse teorie. Partiamo con la teoria di Arlenius, che dice che appunto un acido è una sostanza che si dissoci in acqua rilasciando ioni H+, mentre una base è una sostanza che si dissoci in acqua rilasciando ioni H+. o H-. Tuttavia questa teoria è limitante, poiché esistono acidi e basi che pur non possedendo ioni H+, o H- all'interno della molecola, si comportano a tutti gli effetti da acidi o da base, ad esempio l'ammoniaca NH3. Veniamo quindi alla teoria di Bronsted-Lowry, che definisce acidi e basi come specie che donano o accettano protoni H+. In questo senso vengono definiti acidi le sostanze che donano protoni e basi quelle che li accettano. All'interno di una reazione in soluzione acquosa di un acido, ad esempio, definiamo base coniugata la specie derivante dall'acido che ha perso protoni. In questo esempio vediamo che HCl dona un protone ad H2O a dare H3O+. In questo caso Cl- è la base coniugata di HCl. Allo stesso modo per le basi abbiamo l'acido coniugato della base, in questo caso NH3, la specie che ha accettato protoni, in questo esempio lo ione ammonio. Un'ulteriore definizione di acidi e basi che completa le caratteristiche fino ad ora allencate è quella di Lewis, che li definisce in base alla capacità di accettare o donare un doppietto elettronico. Gli acidi di Lewis sono quelli che accettano un doppietto elettronico, mentre le basi di Lewis li donano per andare a formare un nuovo legame. Ora che abbiamo definito acidi e basi introduciamo il concetto di prodotto ionico dell'acqua. L'acqua pura a 25 gradi è parzialmente dissociata in uno stato di equilibrio, in ioni H3O+, e ioni OH-. La costante di equilibrio, quindi il grado di dissociazione dell'acqua, è detto KV ed è pari a 10 alla meno 14. La concentrazione rispettiva degli ioni H3O+, e OH- è uguale ed è pari a 1 per 10 alla meno 7, quindi non ci sarà un eccesso di ioni OH- né un eccesso di ioni H3O+. La nostra soluzione, acqua pura, è quindi una soluzione neutra, il suo pH sarà pertanto pari a 7. Il pH è definito come meno logaritmo di H3O+. Definiamo quindi una soluzione acida, una soluzione acquosa che ha un eccesso di ioni H3O+, e il cui pH sarà inferiore a 7. Verrà definita invece come una soluzione basica, una soluzione in cui vi è un eccesso di ioni OH- e il suo pH sarà superiore a 7. Ora abbiamo capito cosa sono gli acidi, cosa sono le basi e come si misura l'acidità o la basicità di una soluzione. Ci manca capire come si definisce la forza di un acido o di una base. La definiamo in base alla capacità di dissociazione della specie in acqua. Vengono definite acidi e basi forti quelle specie chimiche che in acqua si dissociano completamente. Definiamo invece acidi e basi deboli quelle specie che in acqua si dissociano solo parzialmente. Più l'acido o la base è forte, più sarà in grado di rilasciare o accettare ioni H+. Gli acidi e le basi forti si assumono come completamente dissociati in soluzione. In questo caso abbiamo degli esempi di acidi forti, ad esempio l'acido coloridrico o l'acido nitrico. A questi sono associate delle costanti di dissociazione maggiori di 10 alla meno 1, mentre invece ad esempio gli acidi deboli hanno un equilibrio di dissociazione in acqua e la loro costante di dissociazione è solitamente inferiore a 10 alla meno 4. Bene, ora che abbiamo finito con la parte teorica facciamo un piccolo esercizio per fissare i concetti appresi. Calcola il pH di una soluzione di acido formico a concentrazione 4,2 per 10 alla meno 2 molare, sapendo che la sua Ka è 1,77 per 10 alla meno 5. Allora cominciamo andandoci a scrivere l'equilibrio in soluzione di questa specie acido debole. Avremo che appunto l'acido formico in acqua si va parzialmente a dissociare in H3O+, e ione formiato, e questo equilibrio è governato appunto dalla Ka. Noi sappiamo che la concentrazione iniziale di acido formico è 4,2 per 10 alla meno 2, quindi questo dato l'abbiamo, ci mancano le concentrazioni di H3O+, e HCO-. Chiaramente per la determinazione del pH ci servirà a sapere la concentrazione di H3O+. Queste due concentrazioni sono uguali in quanto i coefficienti secchiometrici sono tutti pari a un'unità. Dovremmo quindi andare a scrivere, andarci a ricavare la concentrazione di H3O+, dalla costante di dissociazione acida, quindi dalla Ka. Quindi andiamo a scrivere l'equazione e possiamo indicare H3O+, e HCO- come x. In questo caso arriveremo alla formula x quadro, tratto 4,2 per 10 alla meno 2, che è uguale alla nostra Ka. Facciamo quindi la formula inversa e ci andiamo a determinare la concentrazione di H3O+. Da qui quindi basterà fare il meno logaritmo di concentrazione di H3O+, per avere il pH della nostra soluzione che è pari a 3. Dobbiamo fare un altro piccolo esercizio, dove ci chiede di calcolare il pH di una soluzione ottenuta miscelando 10 ml di HCl 0,1 molare e 10 ml di NOH 0,05 molare. Allora, partiamo immediatamente andandoci a ricavare le moli rispettivamente di NOH e di HCl. In questo modo non faremo confusione con moli e molarità. Quindi ci scriviamo la reazione di neutralizzazione, poiché sappiamo che quando un acido e una base reagiscono fra di loro vanno a formare un sale, in questo caso NACL e acqua. E ragioniamo nel seguente modo. Al tempo 0, quindi nella situazione iniziale, avremo 0,001 moli di HCl e 0,1 molare. 0,0005 moli di NOH, nessuna mole di NACL né tantomeno di H2O fra i prodotti. Ora, osserviamo i coefficienti stoichiometrici. È abbastanza evidente che NOH sia il nostro reagente limitante, quindi quello che va a reagire totalmente. Quindi, una volta che la nostra reazione è finita, avremo un consumo totale di NaOH, quindi scriviamo meno 0,005 e una produzione di NACL pari a più 0,0005 e un consumo di HCl pari a 0,0005. Ora, andando a fare la sommatoria di questi contributi, ci troviamo che l'NOH al tempo finale sarà pari a 0. L'HCl rimasto sarà pari alla concentrazione iniziale 0,001 meno quello che ha reagito, quindi meno 0,0005. Quindi ottenremo 0,0005 di moli di HCl. Ora che abbiamo trovato le moli di HCl, dobbiamo andare a trovarci la concentrazione, andando a eseguire l'operazione semplicissima di dividere le moli per il volume totale, che è 20 ml. Andiamo quindi a trovare la concentrazione di HCl che è 0,025 molare. Quindi, cosa è successo? Semplicemente l'NOH che era in soluzione ha reagito tutto con l'HCl, ci è rimasto un pochino di HCl in soluzione che chiaramente andrà a dare alla soluzione caratteristiche di acidità. Andrà quindi a dissociarsi completamente, in quanto è un acido forte, a dare H3O più e Cl meno. La concentrazione di H3O più è uguale alla concentrazione di HCl, poiché appunto un acido forte, e sarà quindi uguale a 0,025 molare. Sarà quindi facile trovare il pH andando a fare meno logaritmo della concentrazione di H3O più, quindi meno logaritmo di 0,025 che da 1,6 di pH. Bene, la videopillola è finita, se ti è piaciuta ti invito a mettere like e a seguirci sulle nostre piattaforme social Facebook, Instagram e YouTube. Grazie e alla prossima!